Per il ciclo risate all'italiana Ora, non mi trovi bello, simpatico, interessante, ottimo Da geniali inventure Mi sono innamorato di una ragazza bellissima A ladro per amore Le avventure di Arsenio Lupin Ti piace Arsenio? Adriano Celentano Eleonora Giorgi Siete nel retto! Non avrete il coraggio? No? No Rete 4 Mani di velluto Stasera 21.15